Oddio. Ma devo dormire qua? Perché? Ma io sono paura, ma... Non posso spiegare... ...una frase a volte prende più sabor. Sì, da te letti. Non mi piace. Magicamente tutto naturale sai. Tu non ci pensi mai. Ma non ci pensi mai. Ma non ci pensi mai. Ma non ci pensi mai... Ma non ci pensi mai... Ma non ci pensi mai... ...essi pensi mai? Grazie a tutti.